salve la gente qui è il vostro jacoboschi di fiducia che vi parla allora siamo oggi nello speciale dei mil iscritti sono letteralmente contentissimo grazie per il supporto e la sfida di oggi consiste nel completare la sfida dei 2 milioni di iscritti sempre fatta apposta non sono due milioni ma sono comunque iscritti a godic che quindi siete pronti ragazzi spero di sì io partirei subito a caso con cordelius che ho sbloccato in uno short piccolo spoiler perché uscirà penso fra qualche giorno pure oggi non lo so in qualunque modo ho sbloccato ancora non riuscito lo short ma non vi preoccupate uscirà scusatemi se faccio pochi video ma purtroppo il tempo non è quello che è comunque spero che vi piaccia il video lasciate like iscrizione non è campanellina aia porcazzuza vabbè fate voi eh se lo potete lasciare lasciatelo se no non fa niente lontani lo devo imparare ad usare per poco cavolo cosa cosa che fa ah mi fa saltare no c'è lontana oh e dai sembra fatta apposta devo imparare ad usare cordelius in qualche altra mappa raffa gemme mi pare proprio che non funzioni sono più veloce non sono più veloce di niente porcazzuza faccio schifo non riesco ad usarlo sono incapace porcazzuza no 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 corri corri no no correte di più maccia non so usare cordelius maccia vai no non ci riesco quella bella è sparata lontano mannaccia come è giusto che sia stiamo continuando a stiamo continuando a fermarli ma non fa niente dai non riusciamo stiamo nel campo loro dobbiamo cercare di portarli nel nostro campo le gemme se no è impossibile spavano troppo velocemente no no si raga è la partita più lunga del mondo porcazzuza aiuto dai fermiamole che cosa ce la possiamo fare lo fermo vai no non ce la facciamo manco questo no raga è impossibile è impossibile qua ma serve un miracolo però ce la possiamo fare io ci credo ancora il miracolo il miracolo il miracolo il miracolo oddio il miracolo no 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 non ci pensate nemmeno porcazzuza in cavolo prendiamo queste per ammortarci un po' al sicuro vai 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 dai oddio raga non ci credo mai non ci credo che vittoria mamma mia sfruttare una mossa di genio sfruttare la velocità con la super oddio dai epico ok il graffito di lola epico grazie bros stars e ok grazie mille e uuuu abbiamo completato i mitici raga comunque una piccola informazione non c'è tanta gioia eh nei sbloccare i brawler ultimamente perchè per un semplice motivo eh a natale spero di ricevere un nuovo tablet con cui ehm farò video ma il canone youtube mo lo trasporterò o almeno ci provo perchè non ne sono capace adesso vedrò i tutorial come si fa ma comunque i giochi eh penso che perderanno del tutto la memoria quindi si dovrà iniziare tutto da capo raga quindi supporto per favore iscrivetevi e dai su dai allora eh continuiamo rapina 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 vediamo un attimo la mappa la mappa in rapina mmm questa mappa non è che è tanto semplice io la detesto anche abbastanza questa mappa dobbiamo scegliere un brawler ma si dai non sarà la miglior scelta del mondo però forse con la super possiamo fare grandi cose quindi ragazzi provare nornuoce proviamo eh se non riusciamo la prima volta proviamo una seconda ed se non ci riusciamo manco la seconda allora la cambiamo brawler allora beh beh 9000 di vita tanto danno ottimo ottimo ok lo spingiamo fermate l'edgar fermate l'edgar porca fermatelo via devo trovare allora la ci sta uno dei miei posti no devo fare così adesso se riesco a fare un'altra mossa no non funziona no dai devo riuscire a piazzare il mio dannatissimo robo se ci riesco no naccia volevo piazzarlo vabbè in un modo o nell'altro ce la farò fermatelo aspettiamo aspettiamo ciuff ciuff motherfrager va dai fenguccio mamma mia no non ci arriva là non ci credo muaaa devo spostare quel dai il nostro primo non va non fa non fa non fa il nostro primo non si muove non si muove il primo dai ok si è ripreso si è ripreso oh se non mi ci dite sto feng che cosa devo fare io vabbè il primo dai però che rottura non riesco a fa niente nace devo piazzare questa cosa qua ormai è troppo tardi però lo piazzo ma ormai non fa niente ho spiazzato male avevo piazzato male raga l'ho piazzato male eh eh l'ho piazzato male che si vuole ah ho sbagliato vabbè dai ci riproviamo in caso usciranno degli short su come finisco intanto 20 minuti facciamo le partite non vi salto niente così quando si vince eh sto sempre registrando continuiamo così intrepidi ah subito il primo andato secondo andato stati ferma stati ferma nooo sono vivo sono vivo se riesco a passare mamma mia che roba se riesco a passare un attimo si 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 lo deve piazzare la ce la faccio vediamo boom via fuga nooo troppo lontana porca di quella zozza nooo non ci riesco non ci riesco oh my god ce l'ho fatta sono passato sono passato e e gnacia no raga ho sbagliato tutto aia blocco i colpi raga 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 non lo so chac porca zozza faccio veramente schifo con sto chac na c'ha è difficile da utilizzare devo no devo metterlo la ho piazzato sto gettando gettando questo dai mi accontento è tanta roba per me è tanta roba aia aia naccia sto sudando secondo me è forte sto brawler ma lo devi sapere proprio sa bene lo devi proprio sapere usare bene eh non è il mio caso però abbiamo vinto l'importante è quello ok vai vai uno star drop la ringrazio brawl stars emoji un due tre quattro raro vai 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 ok adesso ricercati ditemi quello che vi pare ma sinceramente non mi fa né caldo né freddo no non mi fa né caldo né freddo corvo il brawler secondo me è più forte di brawl stars almeno per come la vedo io ditemi quello che vi pare raga ma per me corvo o almeno per come lo so utilizzare io è il più forte è il più forte secondo me pure non è vero non è vero secondo me che corvo è il più forte ma per come lo so usare secondo me è il più forte è il più forte di quelli che so usare a parer mio è il più forte poi ognuno pensa quello che gli pare ognuno ha le proprie opinioni per esempio questo buzz ha l'opinione di dover essere killato io circondato boom uno morto morto due sono morto io però almeno un altro me lo so portato in tomba quattro stelle attenzione al buzz dietro io ho fatto un po' di danno attenzione è una brutta situa non ho fatto in debba saltare però qua attenzione qua posso ancora fare se non se ne vanno non se ne sono andati non hanno fatto in tempo colpito e sono morto qua potevo evitare la morte sinceramente qua la potevo evitare e la forse era meglio però non è ancora finita forse mi devo stare zitto forse precisamente decisamente mi dovevo stare zitto ma forse mi sbaglio io ma dovevo stare zitto ma basta no mi stavo a dimenticare già che eravamo su brawl stars yo con calma eh stai pure un po' calmino andata minaccio però le ho fatto guadagnare una stella vabbè però allora figli dei fiori figli dei fiori state morendo troppe volte e non fate kill sta cosa mi sta facendo innervosire figli dei fiori ok bravi sei usti qua no ho una brutta impressione ok no eeeh bull dar avvicinato contro corvo che ci vuoi fa' dai però i miei compagni sono stati veramente inutili raga i miei compagni veramente inutili inutili abbiamo fatto quasi le stesse statistiche sì ma secondo me ho fatto di più di che ne so chi era quella energetica energetica ha fatto le kill ma non me le ha sfilate secondo me mo mi serve ripetere la partita ma secondo me me le ha sfilate comunque lasciando perdere la situazione io direi di concentrarci sul vincere questa tannatissima partita direi che sia proprio l'occasione giusta proprio 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 l'occasione giusta e qua la dominiamo la dominiamo l'ho già detto no eeeh no e basta tutti qua cucu cucu cucumbers no ce me l'hanno qua me l'hanno sfilata raga qua me l'hanno proprio sfilata proprio mi hanno preso lo sfilone di pane e me l'hanno sfilata ci penso io ci penso io via vittorio che raga che raga corvo corvo c'è corvo is my life c'è corvo is my brawler preferito io fra poco al posto del minotauro ci metto corvo dovrei fare un'immagine profilo con tutte e due c'è la tavola lo sono vivo non so con quale logica sono sopravvissuto ma sono vivo la mi ero già visto stavo già mollando il tablet sinceramente però oh meglio è non mi lamento no stavo per saltare vai mortisio vai mortisio eh non lo so se si ricarica la super shelly ah no ce l'ha fatta godo shelly la dovevi usare prima quella super la che mi ci butto mi ci butto a pesce a pesce a pesce non ha funzionato a pesce tecnica pesce non ha funzionato a pesce no a pesce ok non è stata una buona idea non c'ha quei gadget beh qua me la sono rischiata oh no non mi date la palla a me non mi date la responsabilità porco cane no e via ti esorcizzo ti esorcizzo eh brutta ti esorcizzo eh qua io ho fatto una fracassa di no no fermatela fermala no e niente e niente e niente raga e niente dai questa qua è quella buona me la sento me la sento loro c'avevano una squadra tank e stavolta non sono da meno secondo me ehm però noi abbiamo edgar dai edgar 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 è forte edgar mi hanno distrutto mi hanno letteralmente distrutto vai shelly vai no shelly è morta vai ed è no niente vai destruction lo sapevo lo sapevo passa qua vado 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 che golazzo vai vai prendete la banana vado vado qua l'ho presa aia ahia shelly devi distruggerlo no shelly ci vado io Ho capito qua Come si devono fare le cose Li ho esorcizzati Vittoria, basta Grazie, grazie Star drop Raro Bene Star drop super raro Ritiriamo 50 Bling che non si butta Ok Va bene ragazzi Io insieme al mio amico Corvo Vi salutiamo, grazie per sostenermi Così tanto Siamo arrivati a un gran traguardo Lasciate like, iscrizione Così adesso puntiamo ai 2000 E vabbè Da Jacobosch è tutto E ciao